Perla Vattiero trionfa come vincitrice del Grande Fratello 2023. La diciassettesima edizione del Grande Fratello ha trovato la sua vincitrice in Perla Vattiero. La concorrente è stata incoronata vincitrice dopo una lunga avventura nella casa di Cinecittà, battendo la concorrenza e conquistando il monte premi di 100.000 euro, metà dei quali devoluti in beneficenza. Il momento culminante è giunto nell'ultima puntata del reality show condotta da Alfonso Signorini, con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli a fornire commenti e insight. Perla ha sconfitto Beatrice Luzzi con il 55% dei voti, guadagnandosi il titolo ambito di vincitrice del Grande Fratello. Perla Vattiero ha ottenuto la vittoria dopo un percorso emozionante e ricco di sfide. La sua determinazione e il suo carisma hanno conquistato il pubblico, permettendole di emergere come vincitrice indiscussa della competizione. La serata della finale è stata densa di emozioni, con i concorrenti che hanno avuto l'opportunità di rivivere i momenti salienti della loro permanenza nella casa di Cinecittà. Gli incontri emozionanti, i momenti di commozione e le sorprese hanno reso la serata indimenticabile per tutti i presenti. Perla Vattiero ha concluso il suo viaggio nel Grande Fratello con una vittoria ben meritata. Oltre al monte premi, ha guadagnato il rispetto e l'ammirazione del pubblico, lasciando un'impronta indelebile nella storia del reality show più seguito d'Italia.